Sono un antisocial perché secondo me è un'evoluzione della società moderna e non ci ha portato a un grande miglioramento ma secondo me ci ha portato a un peggioramento dal punto di vista delle relazioni sociali e quindi pensando in questo modo vedo una conseguenza naturale di non avere social.